Una gigantesca sfera del diametro di 7 metri, sospesa e illuminata dall'interno, raffigurante il pianeta Terra, visto dalla Luna. E' la nuova installazione mozzafiato, nata dal genio di Luke Geram, artista britannico famoso in tutto il mondo per le sue sculture e i suoi progetti di arte dal vivo. La sua ultima opera si intitola Gaia. Dopo il grande successo riscosso a livello internazionale, è arrivata anche in Italia, a Palermo, ospitata fino all'8 dicembre all'interno del Teatro Massimo, che ha deciso di sposare il progetto, curato da Aldo Morgante e dall'andriese Riccardo Carbutti, storico direttore artistico del Festival Internazionale Castel dei Mondi. E' bastata una semplice chiacchierata con Aldo Morgante per dare vita al progetto Gaia. Il sottotitolo di questo progetto è una frase che abbiamo rubato a Borges. La terra è un paradiso, l'inferno e non accorgersene. Ora, perché Gaia? Gaia è un'installazione di Luke Geram, una che ci ha abituato a queste grandi installazioni di grande arte plastica che hanno girato e stanno girando per tutto il mondo. L'autore dell'opera, Luke Geram, è nella memoria del pubblico andriese. Tre anni fa, nel corso della ventitresima edizione del Festival Castel dei Mondi, aveva presentato infatti un'altra delle sue creazioni più famose, Museum of the Moon, un'enorme sfera luminosa raffigurante la Luna, rimasta sospesa per tutta la durata della Kermessa nella chiesa di Porta Santa. La sua nuova creazione è frutto dell'ormai consolidata collaborazione con l'agenzia NASA, che ha fornito le immagini dettagliate della superficie terrestre proiettate sull'installazione. Esposta in occasione della ventisesima conferenza internazionale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow nel 2021, l'opera è un invito a costruire un futuro più sostenibile per il pianeta e a instaurare un nuovo rapporto tra uomo e ambiente. Fa riflettere sulle politiche ambientali, su quello che non sta andando riguardo alla conservazione del nostro pianeta. Con questa operazione vogliamo solo sollecitare un po' l'interesse di tutti e soprattutto delle giovani generazioni a stare un po' attenti alla conservazione del nostro pianeta.